Questo film che tu proponi avrà un pubblico, avrà delle sale, posso stamparlo in 250 copie? I nuovi mercati! Le sedi non interessano ai nuovi mercati! Come non può interessare la storia delle sedi? Ma io prendo un soggetto preciso per ricomposare il sistema. Ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. La fabbrica chiude! La fabbrica chiude non sa abbandonare. Occhio! I titoli di testo, ci hai pensato ai titoli di testo? Ma tu devi scrivere, non devi fare il regista. Il film è già scritto. E dov'è? Dov'è? C'hai avuto delle risposte per il film? Non ha capito. Stai immaginando? Ma perché scrivi queste scene? Perché? Non è di questo Dio che vuoi trattare. No, non è di questo Dio. E che gli operai credevano andassero in paradiso.